Non sino a Marte, parafrasando una canzone di Mario Vinuti, ma in Emilia Romagna sì, anche a Sant'Agata Bolognese, casa del lussuoso brand automobilistico della Lamborghini, il 5 febbraio prossimo si festeggerà la Santuzza. Ne approfitto per fare un saluto agli amici di Catania che hanno l'onore di avere il corpo della Santa nostra patrona presso di loro e volevo ricordare loro che anche per noi è una Santa importante perché essendo appunto la patrona ci dà l'onore di poterla festeggiare nel modo migliore organizzando sempre una fiera molto importante. Diversi sono a Sant'Agata i dipinti che raffigurano la Santa, anche un affresco sotto il nostro porticato la rappresenta assieme alla Vergine e a San Giovanni Battista. Quello che è presente in chiesa è una vera e propria tela seicentesca che raffigura la Santa con il vassoio e i propri seni sopra ed è attribuita al pennello di Guidoreni. In effetti in occasione della festa di Sant'Agata si crea quella che è una ciambella che si chiama brazzadella tendra detta in dialetto bolognese, ciambella tenera, che è un'usanza tipica di Sant'Agata bolognese.